La medaglia quando si parla di ambiente e soprattutto di produttività dell'agricoltura campana si sperimentano nuovi tracciati grazie anche a nuove tecniche come quella che riguarda l'elicicoltura l'allevamento delle lumache. Pasquale Piscitelli Anche per l'elicicoltura, ossia l'allevamento delle chiocciole, cresce la domanda. In Italia 580 impianti, dei quali appena una decina in Campania. Si importa l'80% di lumache con la conchiglia utilizzate sia per il food che per la cosmesia e per la farmaceutica. Un ciclo naturale completo adesso con un nuovo metodo presentato ad Aversa dall'Associazione Nazionale Elicicolturi che conta oltre 400 iscritti, nuove prospettive anche in Campania. Siamo l'unico tipo di allevamento che non inquina, che crea proteine con una grande sostenibilità, con un basso consumo idrico che serve a valorizzare i nostri terreni con un piano di marketing ben preciso. Bassi costi di produzione e alti rendimenti, per alcuni è una doppia opportunità. La mia professione è sempre stata quella di avvocato penalista in un territorio dove tra l'altro c'è molto lavoro. Però parlando con amici dell'elicicoltura sono rimasto sostanzialmente folgorato dalla idea. Avevo un'attività commerciale però purtroppo è andata male. Sono venuto a conoscenza di questa nuova opportunità che è l'elicicoltura e mi sono buttato in questa nuova esperienza. È un settore in sviluppo e inoltre al 70% di utili e poi soprattutto per noi donne insomma si occupa della nostra bellezza. Bellezza assicurata dalla bava estratta, naturalmente dalla chiocciola senza stressarla. Numerosi campi imprenditoriali, da minaccia per gli orti a nuova risorsa per un mercato emergente grazie all'amica con la casa sulla testa e con gli occhi sui becchi.